Frizzante e compatto all'esterno, con il frontale Opel Visor che integra calandra e fari, spazioso e versati dall'interno e l'aspetto del SUV, Opel Crossland cambia la sua immagine e rafforza le sue doti in termini di versatilità, equipaggiamenti e dinamica, arricchendo la gamma anche con l'allestimento sportivo GS Line. All'interno, sedili posteriori scorrevoli, volume di carico fino a 1.255 litri e, optional, sedili ergonomici in Alcantara certificati AGR. Aggiornati telaio e sterzo, mentre il controllo adattivo della trazione Intelligrip consente la mobilità su ogni tipo di terreno. Di ultima generazione la gamma di motori, benzina e diesel Euro 6D, che soddisfa i più rigorosi standard sulle emissioni. La seconda generazione di Opel Mokka rappresenta per il marchio l'inizio di un nuovo corso stilistico e tecnico, che di fatto porta a un posizionamento per il brand sempre più innovativo, moderno e fuori dalle convenzioni. Il design, dal frontale Opel Visor con luci a LED, inaugura l'immagine futura del marchio. La gamma motori comprende, oltre alle unità termiche, anche una variante 100% elettrica. La dotazione di sistemi di assistenza alla guida è di riferimento nella categoria. Un SUV compatto, divertente, efficiente e completamente inedito, Opel Mokka simboleggia i valori del marchio nel nuovo millennio. Offre infatti, oltre ai motori termici di ultima generazione, una variante a emissioni zero da 100 kW, 136 CV, che unisce prestazioni elevate e doti eccellenti in tema di mobilità sostenibile. La velocità massima autolimitata a 150 km orari e l'accelerazione da 0 a 100 in appena 9,1 secondi, autonomia fino a 324 km e appena 30 minuti per ricaricare la batteria all'80% con una ricarica veloce. Opel premia i primi acquirenti di nuovo Opel Mokka con l'esclusiva edizione speciale di prelancio First Edition, offerta a 289 euro al mese. In alternativa si può scegliere tra il motore benzina da 130 CV con cambio automatico 8 marce, oppure il motore elettrico da 136 CV. La dotazione standard è completa e comprende, per la versione elettrica, il Navi Pro con schermo da 10 pollici che si raccorda con il quadro strumenti digitale e i sorprendenti fari Intellilux LED Matrix. Ma non è tutto. Chi sceglie Opel Mokka First Edition avrà anche un anno di assicurazione RCA gratuite e per chi opterà per la versione elettrica è compresa anche la Wallbox per la ricarica. Per prenotare il nuovo Opel Mokka First Edition è sufficiente collegarsi al sito opel.it, creare il proprio profilo e procedere con il pagamento di un deposito. Conclusa la procedura, il passo successivo sarà nel concessionario di zona, con un invito in salone per finalizzare il contratto e l'ordine.